Gossip Uomini e Donne, Giordano ritorna oppure no? Ecco la verità. Uomini e Donne Gossip News, la verità su Giordano dopo laddio a Niloufar. Grandi colpi di scena a Uomini e Donne, dove abbiamo visto che nel corso dellultima puntata del Trono Classico in onda su Canale 5, la bella Niloufar Adati ha fatto i conti con laddio del corteggiatore che ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione ad un passo dalla fatidica scelta finale. Un colpo di scena decisamente spiazzante che ha scatenato non poche polemiche in studio, al punto che anche Maria De Filippi ad un certo punto è apparsa un po furiosa in studio. Niloufar in crisi senza Giordano, bufera a Uomini e Donne. Nel dettaglio le Gossip News su Canceletto Uomini e Donne rivelano che Giordano ha scelto di andare via dalla trasmissione dopo aver visto il bacio che cè stato tra Niloufar e Nicolò, che lha mandato su tutte le furie. In quel momento il corteggiatore ha rassegnato le sue dimissioni dal programma, avvertendo la tronista che non sarebbe più tornato. La tronista, infatti, è apparsa visibilmente scossa e amareggiata dalla scelta del suo corteggiatore di voler andare via dalla trasmissione, così, senza neppure poterle parlare per un'ultima volta. La scelta prima dell'addio. La scelta finale di Giordano. Niloufar non si è data pace, del tutto incurante delle parole dell'altro corteggiatore Nicolò, che nel frattempo in studio faceva presente alla tronista che non stava gradendo per niente il suo modo di fare. La giovane ragazza napoletana, però, si è infischiata di tutto e di tutti e in studio ha quasi implorato la redazione del programma di Maria De Filippi di mettersi in contatto con Giordano, affinché potesse parlargli telefonicamente. Il ragazzo, però, si è rifiutato di sentire Niloufar al telefono e proprio per questo motivo ha suscitato l'ira di Maria De Filippi, che a quel punto quasi come una mamma, ha detto a Niloufar di svegliarsi e di capire che se Giordano ci tiene per davvero a lei, ritornerà da solo in trasmissione senza bisogno di appelli. Ma qual è la verità dei fatti? Cosa succederà a questo punto della trasmissione? Le ultimissime indiscrezioni rivelano che Giordano avrebbe rivelato ad alcune fan incontrate durante il weekend che ormai la sua decisione è ufficiale e quindi che non sarà presente in studio neppure durante la registrazione del trono classico prevista per oggi pomeriggio. Cancelletto Uomini e donne Anticipazioni Cancelletto Uomini e donne oggi.